C'era una volta, reperti di vita sportiva, pezzi di un'epopea immortale, frammenti di un'odissea chiamata calcio. Le battaglie, i grandi match, i trionfi, le lacrime, le gioie e i dolori. Il Vicenza ha una storia e può raccontarla, ma nella città bianco-rossa manca un museo del pallone. Leonardo Bano è da tanto che propone un Tempio dell'Ane, ma ora più che mai impegnato nella corsa per la poltrona di sindaco, con la sua lista no privilegi politici, rilancia il suo progetto che diventa impegno. Abbiamo proposto questo museo Vicenza Calcio con due fedelissimi e non è stata accolta da nessuna amministrazione. Gli spazi ci sono, cerchiamo di mettere in mostra anche questo museo che è importantissimo. Se siamo bianco-rossi, se tifiamo Vicenza, indipendentemente che mi candido come sindaco, se vogliamo fare per Vicenza è stato fatto poco. È stato fatto poco, questo il giudizio di Leonardo Bano. E i fatti gli danno ragione dal momento che non è mai stato creato un museo per una squadra storica e blasonata come il Vicenza Calcio. Eppure gli spazi ci sono. Bisogna fare il censimento delle strutture che ci sono a Vicenza. L'ex sindaco dice il tesoretto, tesoretto, tesoretto. Ci sono dei luoghi abbandonati che bisogna riprendere, bisogna rivalutare. Anche insieme con le associazioni, con dei progetti fatti magari anche con delle scuole, con gli architetti, con i geometri e quant'altro. Trovare queste strutture, fare magari di campus, scuola, lavorativi con gli studenti e portare a termine questo progetto mettendo insieme le varie associazioni, chi mantiene, chi progetta, chi ristruttura, chi porta avanti il discorso. Noi siamo disponibili per migliorare Vicenza tutti insieme. Ci sono tanti volenterosi. Noi abbiamo le braccia aperte, sentiamo i cittadini e facciamo.